State solo rimandando di milita! Siate crudeli se dovete! Vengo a prendertiii! Oh! Forpresa! Beh, sempre meglio dei Gundark. Sai cosa apprezzo di te, Grimus? E' il carattere giusto? Gah! Becciate! Uomini, becciate! Devate portarvi più amici! Ora cedi! Preparati ad essere assunti! Fibri! E? Fuori! Beccato! Perfetto! E' arrivato! La vostra sconfitta è vicina! Cerchiti! Perfetto! Perfetto!